biosfera vandalizzata e spenta per tre giorni caccia ai responsabili parte da pesero la settimana nazionale della protezione civile caso affidamenti il centrodestra denuncia sede termine di spesa all'autorità anticorruzione da pergola da pecchio subito pienone alle fiere del tartufo della provincia sport pronto riscatto della vl debutto amaro per la megabox una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news telegiornale di lunedì 7 di ottobre che apriamo con una notizia di cronaca che riguarda un atto di vandalismo ai danni della biosfera installazione di piazza del popolo nonché icona di questo anno di capitale della cultura nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha infatti divelto la rete metallica protettiva dell'opera tecnologica da 700 mila euro per poi manometterne dispositivi elettronici la biosfera dunque rimarrà spenta per circa tre giorni e le comune asporto denuncia verso ignoti per risalire agli autori di un atto condannato duramente dagli assessori daniele vimini e francesca franquellucci che auspicano nel lavoro delle forze dell'ordine che nel momento stanno esaminando le videocamere di sicurezza presenti nella piazza per risalire ai responsabili e proprio in piazza del popolo si è aperta questa mattina la settimana nazionale della protezione civile che parte dunque da pesaro capitale della cultura che oggi ha ospitato anche il capo nazionale del dipartimento di protezione civile fabio ciciliano dalla piazza del popolo con io non rischio alla tavola rotonda palazzo gradari la protezione civile informa e dialoga affinché si possano ridurre i rischi per tutelare al meglio i cittadini il tutto nella sesta edizione della settimana nazionale della protezione civile che inizia proprio oggi partendo da pesaro capitale italiana della cultura 2024 abbiamo cominciato da pesaro che la città italiana della cultura per l'anno 2024 proprio per questo motivo fare cultura quindi significa trasmettere quelle che sono le principali azioni di conoscenza per la gestione dei territori sia dal punto di vista della previsione della prevenzione sia dal punto di vista della gestione dell'emergenza è sicuramente un risultato importante a cui bisogna tendere parole spese dal capo della protezione civile anche sul tema del cambiamento climatico con il quale bisogna imparare a convivere bisogna dire che il 95 per cento del nostro territorio nazionale è un territorio fragile soprattutto dal punto di vista idrogeologico e quindi ancora più importante fare in modo che questi nuovi eventi climatici che si ripetono più frequentemente con maggiore intensità vengano governati meglio dal punto di vista della gestione del territorio questo però significa che bisogna fare ecco una nuova cultura bisogna cercare di trasformare ciò che è straordinario che poi la gestione dell'emergenza in qualche cosa di ordinario quindi nel governo ordinario dei territori che ovviamente è necessario fare e che impiegano anche diversi anni perché ciò avvenga però se mai cominciamo mai riusciamo a gestire questa situazione sul piano della comunicazione la prefettura e la provincia di pesaro urbino sembrano invece poter fare da esempio nazionale sentivo il prefetto della della provincia che ovviamente ha il potere di coordinamento delle gestioni emergenziali e che ha trovato un meccanismo semplice quanto efficace mettere tutti i sindaci della provincia in una chat in maniera tale che i sindaci a monte possono comunicare in tempo reale ai sindaci a valle quella che è la condizione del territorio per dare il tempo ai sindaci a valle quindi quelli costieri di mettere in campo rapidamente azioni di contrasto rapporti ottimi nella provincia tra l'amministrazione pesarese la protezione civile anche a fronte della collaborazione che c'è stata negli ultimi anni pesero ha un gruppo di protezione civile molto forte molto radicato 170 volontari che collaborano in maniera stretta con tutto il centro operativo comunale quindi c'è una sinergia forte tra amministrazione e volontari e questo ci ha permesso nei momenti di difficoltà che ci sono stati purtroppo negli ultimi anni di dare risposte anche in tempi brevissimi rispetto alle emergenze che si sono verificate nel nostro territorio protezione civile che non è solo a palazzo gradari ma anche in piazza per un cambio generazionale e informare i cittadini in piazza è un momento ovviamente per reclutare i giovani perché l'importante è avere un ricambio generazionale devo dire che gli ultimi ad essersi iscritti alla protezione civile comunale sono tutti ragazzi molto giovani e questo è il messaggio sicuramente più bello che passa in piazza c'è un momento informativo sul tema io non rischio dove si parla di sicurezza e di quale approccio avere nei momenti di difficoltà e di criticità dopo settimane di lavoro in commissione controllo garanzia e accesso agli atti in merito al caso degli affidamenti diretti del comune di pesaro nei confronti delle associazioni opera maestra e stella polare i consiglieri comunali pesaresi di centrodestra annunciano di aver inviato all'autorità nazionale anticorruzione la documentazione di sei specifiche determini di spesa del comune che presenterebbero critiche in concurità il caso degli affidamenti diretti delle comune di pesaro alle due associazioni culturali opera maestra e stella polare ha portato i consiglieri comunali di centrodestra ad inviare specifiche segnalazioni all'autorità nazionale anticorruzione per quanto riguarda sede termine di spesa dell'amministrazione che hanno mostrato ad avviso degli stessi consiglieri documentazione carente dal punto di vista dell'indeterminatezza delle tempistiche record e dei refusi segnalazioni divulgate in conferenza stampa dopo settimane di esame della documentazione e di audizioni dei soggetti coinvolti emerse durante gli accessi agli atti e la commissione controllo e garanzia abbiamo aspettato l'audizione dei dirigenti in commissione abbiamo atteso di poter vedere tutti gli atti compresi quelli che non sono stati protocollati all'ente e quindi che sono presenti soltanto in formato cartaceo all'interno dei fascicoli dopo aver analizzato la documentazione dopo aver sentito i dirigenti siamo stati in grado di poter procedere la segnalazione presso l'autorità nazionale anticorruzione. La segnalazione ha riguardato specifici profili molto tecnici a partire dall'indeterminatezza dell'oggetto piuttosto che tutta la criticità rispetto al fatto che queste due associazioni non risultano essere scritte all'interno del registro unico nazionale del terzo settore che quindi comporta con sé tutta una serie di valutazioni anche rispetto alla congruità dei documenti che sono stati presentati. Abbiamo proceduto poi con le segnalazioni all'ANAC relative ai singoli affidamenti alcuni dei quali sono risultati gravemente critici mi riferisco a piazzale d'annunzio ad esempio sotto il profilo sia dell'oggetto diciamo della determinazione che doveva riguardare la manutenzione straordinaria la riqualificazione del verde poi confrontando invece con la documentazione il preventivo di spesa che riguardava invece la realizzazione del casco si è evinta una grande criticità poi ulteriori criticità sono emerse con le sponsorizzazioni che naturalmente non sono state poi contabilizzate nelle determinazioni di spesa. Altre criticità importanti sono emerse per i lavori di di risanamento dei 100 murales esistenti in città dove sono stati assegnati circa 43 mila euro per lavori ancora non eseguiti e da effettuarsi nel 2024 e nel 2025 vi erano delle determinazioni completamente false nell'oggetto come quella relativa alle opere idrauliche che invece riguardavano la realizzazione di un murales questo a titolo esemplificativo. Poi i singoli affidamenti, le singole determini avevano anche delle criticità importanti perché non veniva individuata ad esempio la motivazione di scelta dell'affidatario oppure non venivano individuati i criteri relative alla congruità della spesa o era indeterminato l'oggetto della prestazione o c'erano delle anomalie temporali. Ora effettuate queste segnalazioni all'ANA che il passo successivo sarà quello di valutare sempre questi affidamenti sotto il profilo invece della corretta gestione della spesa pubblica. Quindi abbiamo a tal fine richiesto i bilanci analitici del 2021, 2022 e 2023 del Comune per poter confrontarli con la documentazione relativa alle singole determinazioni e verificare se c'è stato uno scorretto impiego del danaro pubblico quindi autorità competente in questo caso sarà la Corte dei Conti che è l'organo deputato a vigilare in questa direzione. Da queste segnalazioni ci aspettiamo un riscontro che avverrà sicuramente nelle prossime settimane e rispetto alle quali credo la comunità sarà giusto, verrà resa idotta di tutto quello che starà accadendo. Comune di Pesero che ha deliberato oggi un aumento del 25% di risorse destinate alle progettualità che si sono distinte per rilevanza culturale, integrazione con la città e il territorio, comunicazione e promozione. Il sindaco Biancani e il vice sindaco Vimini annunciano dunque che tramite bando è stato possibile assegnare altri 37.656 euro ai 132.493 già stanziati a marzo. Un'integrazione che consente di erogare risorse a 20 realtà culturali del territorio in aggiunta alle 35 che ne avevano già beneficiato. Ed ora una informazione di servizio e comunichiamo che infatti a causa di lavori di pavimentazione sull'autostrada A14 il casello di Fano rimarrà chiuso in uscita per chi proviene da sud per cinque notti a partire da questa sera. La chiusura riguarderà dunque l'orario compreso fra le ore 22 e le 6 del mattino ogni notte fino al venerdì 11 di ottobre. Imedesimarsi nelle storie di un migrante e nelle sue scelte. Va in questa direzione il progetto di cultura dell'accoglienza dal titolo Parti Oresti che ha coinvolto 400 studenti pesaresi. 400 studenti dei licei pesaresi Mamiani e Mengaroni si sono immedesimati nelle biografie reali dei migranti accolti in provincia nell'ambito del progetto SAI, sistema accoglienza e inclusione gestito dal labirinto cooperativa sociale. Un progetto presentato oggi in municipio che in occasione della recente giornata mondiale del migrante e del rifugiato ha portato sui banchi pesaresi la cultura dell'accoglienza con una formula inedita, quella del gioco di ruolo. Nello specifico noi abbiamo inventato un gioco di ruolo che si chiama Parti Oresti. In questo gioco di ruolo nel tempo che abbiamo in aula facciamo in modo che la classe possa mettersi nei panni di una persona migrante. Ovviamente il gioco è basato sulle biografie reali di persone che hanno attraversato i nostri progetti. Quindi noi abbiamo delle storie, la classe sceglie quale sarà un percorso in maniera del tutto casuale, dopodiché le varie fasi di questo percorso prevedono delle scelte. In questa situazione che cosa fai? Sì o no? Sulla base delle scelte che la classe fa, che quindi deve lavorare anche in gruppo, si aprono e si chiudono degli scenari. Alla fine del gioco diciamo che tutte le scelte, chi prima e chi dopo, portano a partire e quindi c'è anche tutta la parte di viaggio in cui ci sono determinate scelte da fare che assicurano meno il successo di questo viaggio che prevede sia in alcuni percorsi la rotta libica che quella balcanica. Portare con sé denaro o acqua, reagire o nascondersi, fino a decidere se partire o restare. Questo per loro è stato particolarmente sorprendente, ma è stato anche per me perché anche io ho giocato, ho giocato insieme alla mia classe ed è stato sorprendente verificare quanto tutta una serie di cose che noi davamo per scontate, diamo per scontate, poi scontate non lo sono, sono scontate per noi perché la nostra realtà è questa, ma quanto è difficile mettersi nei panni di qualcun altro. Le attività svolte al Mamiani e al Mengaroni hanno dato vita ad un libretto che racchiude le riflessioni degli studenti in un progetto che presto sarà allargato ad altri istituti. Cosa ci abbiamo guadagnato? Stupore, la consapevolezza di non sapere, l'emozione di vite e storie che sono difficili anche solo da immaginare ma che sono vere perché il gioco si basa sulle vite vere. A Pesaro si è conclusa ieri la tre giorni della settantesima mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali. Un weekend di festa di fiori inizialmente viziato dal maltempo ma che ha comunque raccolto la presenza di tanti pesaresi e visitatori negli allestimenti di Viale della Repubblica. Il sindaco Andrea Biancani in visita agli stand ha ribadito che dopo tre anni in zona mare, dal 2025 la festa tornerà in centro storico allargandosi anche oltre Piazza del Popolo. E con questo primo weekend di ottobre sono partite anche le prime rassegne della provincia dedicate al tartufo. Ieri, la prima domenica della ventisettesima fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola, ha registrato subito il pieno di visitatori. Nelle prime tre domeniche di ottobre, 6, 13 e 20, Pergola, la città degli Ori, ospita la ventisettesima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. Questa fiera è dedicata a tutti gli appassionati, alle famiglie, ai giovani, a tutti coloro i quali hanno piacere di trascorrere qualche ora o addirittura un intero weekend fuori porta a conoscere, a visitare le bellezze di questo territorio, di questo luogo, uno dei più bei borghi d'Italia. Tante le novità, partiamo dal treno storico che oggi è arrivato a Pergola con tantissimi turisti e la scelta di puntare sulla qualità della fiera, quindi ad esempio con la presenza del Presidio Slow Food. Come vedete anche la presenza nel cuore della città, in Piazza Ginevri, della Casa del Tartufo dove abbiamo uno dei nostri ori di Pergola, il tartufo bianco pregiato, l'altro oro sono i bronzi dorati custoditi nel nostro museo. Questa prima domenica è già stata un successo, abbiamo contato già oltre 20.000 presenze provenienti da tutta Italia. La fiera nazionale si conferma nazionale ma noi stiamo lavorando per la sua internazionalizzazione, proprio per questo abbiamo presentato in questi giorni questa fiera proprio all'aeroporto internazionale di Ancona. Presenze di qualità, espositori da tutta Italia, la presenza di Slow Food questa domenica con la delegazione dell'Umbria ma nelle prossime domeniche con le delegazioni della Toscana e dell'Abruzzo avremo ospiti della regione Liguria con la città di La Spezia, con le ostriche della Spezia, così come la prossima domenica avremo ospite Sorbillo, il re della pizza napoletana, un'eccellenza campana, un'eccellenza italiana. Quindi questa prima domenica è un ottimo viatico per le prossime due domeniche di fiera. E da Pergola ad Apecchio, analogo successo per la 42esima mostra mercato delle tartufo e della birra. Un bagno di folla ad Apecchio fra centro storico e osterie per degustare il prezioso tubero e le birre artigianali con tanto di concerto conclusivo dei Mattia Bazzar incoronati col titolo di re tartufo dal sindaco di Apecchio, Vittorio Alberto Nicolucci. E ieri invece a Pesero più di 400 persone hanno assistito la prima volta sul palco, in questo caso il palco della Biosfera, di due icone del teatro dialettale come Carlo Pagnini e Franca Mercantini che in un'ora hanno proposto il meglio del loro reciproco pluridecennale repertorio di poesie, aneddoti e racconti. L'evento ribattezzato El Fiorfior del Dialet non si ferma qui ma come annunciato da Biancani e da Vimini, apre un novembre in cui sullo stesso palco si terranno una serie di pomeriggi dedicati al teatro, al dialetto e al teatro amatoriale portato in scena da compagnie come la piccola ribalta, il teatro dei bottoni e il teatro l'Accademia. Ed è stato un weekend con tante presenze anche a Urbino in occasione della quindicesima edizione di Biosalus, il festival dedicato al biologico e al benessere olistico organizzato dall'Istituto di Medicina Naturale con il comune di Urbino. Tantissimi visitatori fra gli stand di prodotti, i laboratori e gli approfondimenti organizzati per l'occasione, oltre ai massaggi ayurvedici e le lezioni di yoga gratuite svoltesi in location d'eccezione come quella del teatro Sanzio. E quella di ieri è stata una domenica davvero piena di visitatori e di turisti nella città di Urbino anche per l'invitante occasione di visitare l'ultimo giorno utile della mostra dedicata a Federico Barocci presso la Galleria Nazionale delle Marche. Un ultimo giorno di accesso a Palazzo Ducale ad ingresso gratuito per una mostra che ha registrato 80.000 presenze a partire dal suo taglio del nastro dello scorso mese di giugno. Ed ora ci occupiamo di un altro dei tanti eventi nazionali di questo anno di Pesaro, capitale della cultura. Questo weekend infatti all'Hotel Charlie si sono accesi i riflettori su una materia spesso controversa e avvolta da un velo di mistero come quello della cultura della massoneria. Il 5 ottobre 2024 è una data importante per una associazione che è conosciuta da sempre ma altrettanto controversa da sempre. Si tratta della massoneria. La massoneria si presenta al grande pubblico oggi a Pesaro nel corso di un convegno organizzato nell'ambito delle manifestazioni di Pesaro 24, capitale della cultura. La sala dell'Hotel Charlie è veramente piena, stracolma. Perché? Perché il pubblico vuole sapere, il pubblico vuole conoscere e soprattutto l'obiettivo che ci si dà oggi in questa sala è quella di sfatare dei miti. Sfatare dei miti significa togliere l'alone di mistero che circonda la massoneria, conoscerla. È fondamentale sottolineare come in realtà il grande obiettivo della massoneria sia quello di cogliere il miglioramento dell'uomo attraverso il perseguire dei valori più importanti dell'uomo. Molto importante sfatare certi miti o certi luoghi comuni che si sono creati attorno alla massoneria. La massoneria non è un luogo di complotto, non è un luogo affaristico, è un luogo dove viceversa i fratelli cercano di portare nella civiltà, nella società, i valori fondanti e più importanti al quale un uomo può ambire. La libertà, la fratellanza, l'uguaglianza che abbiamo trovato nella rivoluzione francese ma anche il libero pensiero che possiamo in qualche maniera materializzare con Giordano Bruno e poi soprattutto la volontà di produrre, migliorare la vita dell'uomo. La vita dell'uomo pur non separandosi da quella conoscenza spirituale e dal credo anche nelle divinità. Perciò vorrei chiudere dicendo la massoneria non è contro le religioni, che se ne dica. I massoni non sono atei tutt'altro, chiedono addirittura di dichiarare di non esserlo, quindi vorrei che i fratelli fossero nuovamente ben accetti nel mondo profano come lo sono stati nel passato. La struttura massonica è composta da logge che sono presenti nel territorio e le logge fanno capo a una riunione circoscrizionale regionale e tutte le circoscrizioni fanno capo al Grand Oriente d'Italia che è la struttura apicale. La massoneria non si connota per mistero, non è segreta, ma certamente sconta un passato, una storia in cui per ragioni diverse, anche per propria tutela, ha dovuto difendersi e in qualche modo in alcuni periodi storici ha dovuto coltivare una forma di segretezza. Oggi tuttavia e già da tempo la massoneria è totalmente palese. Coltiva invece un aspetto di riservatezza perché giustamente la riservatezza è un diritto costituzionalmente garantito e che serve a tutelare la posizione personale degli schetti. Ma non abbiamo assolutamente nessuna segretezza, fra l'altro oggi come oggi non è più possibile perché tutto quanto riguarda la massoneria è ampiamente divulgato nella rete e in altre pubblicazioni, in altri supporti. La vita della massoneria interitaliana non è mai stata facile, non è mai stata facile perché in generale le monarchie non vedevano sempre di buon occhio la presenza massonica. Figuriamoci dal punto di vista politico e dal punto di vista anche religioso le posizioni della chiesa, le scomuniche massoniche sono state in numero impressionante, le encicliche che condannano la massoneria. Quindi è stata tutta una storia irta di difficoltà e in qualche misura la carenza di documenti che abbiamo per certi periodi storici è proprio legata a questo, non si potevano lasciare in giro dei documenti. E poi arriva il fascismo e col fascismo succedono prima le devastazioni delle logge e per fortuna abbiamo salvato molti documenti murandoli, nascondendoli e sono venuti fuori decine e decine di anni dopo. E' appunto la fase finale 1925 con il fascismo che mette fuori legge le logge massoniche e quindi il Grande Oriente d'Italia diventa silente, non scompare ma diventa silente. E come ogni lunedì concludiamo il nostro telegiornale con lo sport, un weekend che ha visto il pronto riscatto della VL davanti al pubblico amico, un pareggio agrodolce per la Vispesero e un punto in trasferta ricco di rammarico per quanto riguarda l'esordio della Megabox Vallefoglia. La VL centra l'obiettivo dell'immediato riscatto davanti al pubblico amico. Quattro giorni dopo la figuraccia con Vigevano, Pesero batte Avellino alla Vitrifico Arena 82 a 77. Una vittoria in bilico fino al finale ma questa volta la Carpegna Prosciutto Basket approccia la gara con concentrazione sebbene i campani ribattano colpo su colpo chiudendo il primo parziale avanti 22 a 21. Nel secondo quarto sale di quota la grande prestazione di serata di Eric Lombardi che prende per mano una squadra che alza le percentuali e va all'intervallo avanti 38 a 34. Le schiacciate di Lombardi e Zanotti esaltano i 4100 spettatori della Vitrifico ma Vellino è sempre sul pezzo e chiude il terzo quarto sotto di quattro punti. Nel quarto quarto si va avanti punto a punto prima che la VL avanza il più 7 con la bomba ad Imbrò che apre la strada al successo. Spettacolare la performance da 28 punti di Lombardi in doppia cifra anche Amad con 16 e Zanotti con 12 punti e 6 rimbalzi. Dal basket al calcio secondo pareggio consecutivo per la Vispesaro che impatta 1 a 1 a Sestri Levante dopo un'ora dominata in cui il vantaggio pesarese arriva al 48esimo con la zampata di Paganini bravo a capitalizzare una torre di Nicastro. Il Sestri però riemerge pareggiando di testa con Barravicini sugli sviluppi di calcio piazzato. Per la Vis il rammarico di una gara fortemente condizionata da un arbitraggio insufficiente che fra i vari errori nega un rigore parso solare bianco-rossi e lascia la Vis in 10 espellendo Coppola. Nella pallavolo debutta ottenendo un punto in trasferta la Megabox Vallefoglia che nell'ouverture di Firenze perde 3 a 2 contro il Bisonte dopo una gara infinita di 2 ore e tre quarti. Per la Megabox il rammarico di essere andate vicinissime al successo in quanto avanti 2 set a 1 oltre ad aver maturato un vantaggio per 12 a 8 sul quarto set. Firenze ha pure annullato un match point alle bianco-verdi prima di conquistare il tie-break e la vittoria. I parziali 27 a 25, 21 a 25, 19 a 25, 27 a 25 prima del quinto decisivo set 15 a 12. E si conclude qui questa nostra edizione del notiziario Rossini News. Non si chiudono però gli spazi informativi sul nostro canale 80 perché subito dopo il Tg alle 20 ci sarà il magazine La Natura della Cultura dedicato alla settimana da capitale di San Lorenzo in campo che comincia proprio in questo lunedì 7 di ottobre. Vi ricordiamo che il magazine va in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì in tre fasce orare alle 8, le 13 e le 20 con i riassunti delle tre puntate settimanali che vi riproponiamo il sabato e la domenica. E poi la nostra prima serata è dedicata al basket. Vi ricordiamo che infatti Rossini TV è quest'anno TV ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Trasmettiamo tutte le partite indifferita e questa sera vi riproporremo la vittoria di ieri della VL alla Vitrifico Arena contro l'Avellino Basket. Poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini, la nostra segna stampa dei quotidiani locali. Come sempre in diretta dal lunedì al sabato a partire dalle 7.20, domani martedì 8 ottobre a tenervi compagnia sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi. Si conclude invece qui questa edizione delle telegiornale Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.